ha mandato un messaggio di vicinante allora che stai facendo? ma niente mi fai guardato lì guarda di qui te mi sta annoiando ma perchè? ma che cazzo hai fatto? stronzo ma perchè? ma tu sei uno stronzo ma via di casa che ti voglio dire? ma perchè? guarda ma come? ma via da tu a tutti sei un sacco di coglione ma che è? ma io non gli voglio vedere guarda è bello che cazzo fa? ma via ma via ma via di casa ma perchè? ma via che io ti voglio dire no no ma perchè? ma dentro sta? no sta buono sta ma perchè? ma via ma che cazzo fa? ma che cazzo fa? io mi voglio schifo si vede aggiorgite aggiorgite ma via che mi aggiorno qua va macchini mi pare alchei cani fate bene ma che cantante? dove queste katze le cazzo fa? ci andiamo tutte Era finto, era finto, è una calza Ah beh, allora è un'altra questione Te incazzai